E' vero, noi con le feste siamo sempre in diretta, però io volevo mandare un saluto da Fredo Pedulla, che sta in male, è rimasto a casa, e quindi noi lo salutiamo e lo aspettiamo. Capo per me! Certo, era anche fisiologico, che poi in realtà... Per carità! Un aggancio importante, la vedete qui, Agatha Alonso, con una domanda per... Per il direttore Preiti. Sì, nelle ultime ore si è parlato moltissimo della polemica che ha coinvolto Petrachi con Urbano, insomma... Urbano Cairo. Urbano Cairo. Che cosa ne pensa lei? Sono amici, sono amici. Perché i presidenti sono leciti? Andiamo da Gianluigi Longari, in questo momento per avere notizie dal touch, poi ci fermiamo, parleremo della Juventus, spazio ovviamente anche agli intrecci. Quindi, pensando al futuro, secondo lei è possibile ipotizzare un Inter ancora una volta con Spalletti, allenatore e i car di centroavanti? Lo avviciniamo sempre di più anche con i verdetti del campo, molti importanti già decretati. Adesso, attenzione, prendiamo appunti perché molti prestiti con diritto di riscatto saranno dei casi di mercato la prossima estate. Servizio firmato da... Corazio. A comando. A comando.